commerciare, il commercio, decidere, la decisione, organizzare, l'organizzazione, passeggiare, la passeggiata, affittare, l'affitto, attrezzare, l'attrezzo, invadere, l'invasione, arrivare, l'arrivo, pescare, la pesca, urgere, l'urgenza, scavare, lo scavo, soccorrere, il soccorso, migliorare, il miglioramento, sviluppare, lo sviluppo, aprire, l'apertura, allargare, l'allargamento, potere, il potere o la potenza, scoprire, la scoperta, guardare, lo sguardo, soffiare, il soffio, bere, la bevuta, soffiare, non me ne andrò prima di aver finito ogni sabato viene a mangiare da noi in alcuni giorni lo vedevo sempre i miei amici vengono tutti da torino luca si è trasferito in campagna avrà 15 anni tra due giorni mi aspettava con le mani in tasca sono stato a casa per tre settimane siamo stati svegliati dall'esplosione ieri sera siamo andati al cinema domani sera andremo a teatro i miei amici arrivano fra due giorni è da una settimana che sto male io ce l'ho fatta a finire in un'ora tu sei veramente gentile puoi fare questo facilmente mi ha parlato freddamente il film è stato realmente bello ti hanno sentito perfettamente ho fatto velocemente i compiti eventualmente vengo domani si mangia principalmente freddo non potevamo fare altrimenti mi sono fermato immediatamente guido sempre molto attentamente andiamo direttamente a casa ti sei mosso davvero agilmente me l'hai chiesto gentilmente ho conosciuto il padre di Giorgia Matteo è un dottore molto bravo Matteo è il mio dottore da anni il mio professore è giovanissimo c'è un gatto sul marciapiede c'è il gatto di Ilaria sul prato ho trovato un paio di pantaloni Claudio ha trovato un vestito abbiamo preso il nuovo telefono ho preso un brutto voto a scuola hai ottenuto il voto migliore Luca è il più simpatico a scuola ho avuto una bellissima idea il medico è stato intervistato ieri mio figlio è andato al cinema una volta si andava al cinema in famiglia se non piove dopo andrò a fare un giro vuoi che ci vediamo dopo domani? mi consegnano l'auto entro due giorni un tempo mi piaceva mangiare le lumache oggi non ho il tempo di partecipare da alcuni mesi non vedo più Luca mi hai chiamata? vengo subito ho aspettato il bus per mezz'ora finora non c'è stato traffico adesso fa molto più caldo di prima domani sera andiamo al cinema poco fa ho incontrato Roberto Luca guida l'auto da tre anni sarò a Roma fra dieci giorni due giorni fa è venuto Paolo da quanto studi l'italiano? fra un mese parto per la Spagna i bambini dormono da poco fra due anni finirò la scuola da quanto tempo conosci Marco? l'ho comprata nuova un anno fa l'estate inizia fra un mese non vedo Sara da due giorni ci sono già stato sei mesi fa un'ora fa stavo lavorando trovate la risposta tra le proposte abito a Bruxelles da dieci anni Bruxelles si trova in Belgio hai accettato di venire a casa mia? lo rivedo sempre con gran piacere questo è un fazzoletto di seta blu Laura, ti diamo il benvenuto tra noi fate una ricerca sui giornali bevono un caffè e parlano tra loro grazie per la tua collaborazione Lisa vive con i suoi genitori prendo una pillola per il mal di testa lo zio viene stasera tra le otto e le nove sono in biblioteca fino a tardi Carlo è nato a Milano in Italia è italiano abito ad Atene in Grecia sono greca Luca non è tedesco ma va a Bonn in Germania lui viene da Londra in Inghilterra è inglese Claudia è di Parigi in Francia è francese Roberto è di Berna in Svizzera è svizzero Lidia abita ad Algeri ma non è algerina chi è nato a Palermo è un palermitano chi è nato a Firenze è fiorentino sua zia è giapponese viene da Tokyo Carlo è di Milano e lavora in Svizzera Mario viene da Firenze in Toscana è toscano Claudia abita a Madrid in Spagna è spagnola la Germania è in Europa è un paese europeo c'è tanta gente sulla spiaggia c'è uno spettacolo questa sera dai miei nonni ci sono i miei cugini c'è posto per tutti a tavola c'è ancora molta strada da fare non ci sono caramelle nell'armadio ci sono dei panini freschi in cucina ci sono due concerti questo mese non c'è nebbia questa mattina c'è la pasta questa sera a cena c'è la pasta questa sera a cena c'è un incidente in autostrada ci sono molti uomini nello stadio non sappiamo se c'è bel tempo se c'è il sole fa molto caldo la giuria ha scelto il vincitore dove sei andato ieri sera dopo cena? lunedì hai scioperato con i colleghi voi che cosa avete fatto domenica? molte attrici adesso sono incinte noi siamo stati al cinema di Venezia se siete venuti per litigare andate via il nonno ha viaggiato parecchio non pensavo che loro fossero usciti io l'ho già detto ieri alla mamma sei tornata tardi ancora una volta Alice ha comprato una sciarpa blu lei ha un appuntamento dal medico lui è ventenne lei trentenne i libri degli studenti sono sulla scrivania i clienti parlano con il cassiere del bar coltelli e forchette sono nel cassetto i piatti dei clienti vengono dalle cucine vado dal panettiere a prendere il pane gli esercizi degli amici sono molto utili gli uccelli stanno sui rami dell'albero i vestiti della sua amica sono eleganti il mio telefono è rimasto nello zaino blu queste sono frasi sulle preposizioni Luigi telefona ai suoi nonni a Napoli sul tetto della casa c'è una finestra andiamo in mensa all'uno e un quarto abitiamo al primo piano del palazzo vieni pure per adesso sono a casa stanno tutti lì a guardare i fiori io non sto mai senza far niente i cassetti devono stare chiusi le maglie sono nel cassetto stai zitta per 5 minuti stiamo attenti a quello che dici sono tutti bruciati dal sole state al caldo e non uscite state sicuri che finiamo oggi anche oggi sei in ritardo non potete stare qui dentro non dovreste essere qui dentro sono stato a Napoli due mesi fa a colazione mangio pane con la marmellata il riso è il cibo principale degli asiatici non mi piace la carne troppo cotta la mia pasta preferita sono gli spaghetti la frutta è buona e anche piena di vitamine il pane e la pasta si fanno con la farina odio i fagioli anche se sono molto salutari i giapponesi mangiano spesso il pesce crudo l'insalata fresca è facile da digerire mangiamo una torta di mele dopo il tè marina sta cercando le chiavi marina noi stiamo parlando con i nostri amici io sto portando mia sorella a scuola tu stai ascoltando la radio gianni sta cantando nel bagno voi state guardando i miei occhiali tu stai partendo per napoli loro stanno scrivendo alle sue amiche loro stanno scrivendo alle sue amiche lui sta finendo di lavorare io sto avendo delle difficoltà tu stai dicendo quello che pensi voi state bevendo dell'acqua noi stiamo amando questo viaggio loro stanno cadendo dalla bici ho un sapone perfumato l'asciugamano è bianco la mia vasca è grande la spugna è gialla ecco il nuovo spazzolino a Lisa serve una spazzola è finito il dentifricio ho pulito il lavandino devo farmi una doccia ho preso un nuovo shampoo è finita la carta igienica il rubinetto perde acqua sto usando l'asciugacapelli il mio pettine è giallo mi sono addormentato anche stavolta non ho nemmeno pensato una cosa simile non ho sbagliato neanche questa volta non l'ho detto e non lo penso neppure avete aspettato anche troppo tempo non andiamo a teatro neanche per idea non era male non era male ci siamo perfino divertiti se ne è andato senza neppure salutare no non ci sono nemmeno andato e tu hai finito il lavoro di oggi neanche io non ci vado nemmeno se mi obbligano mi sento triste e inoltre sono stanco pure voi mi avete detto una bugia non ho fatto neanche in tempo a farlo ho messo la sveglia alle sette tira le tende c'è troppa luce il tuo vestito è nell'armadio non ho la televisione in camera ti pettini davanti allo specchio ho messo le coperte sul letto questo cuscino è molto comodo ho molte penne sulla scrivania abbiamo tanti libri sugli scaffali ho una lampada blu sul comodino mi piacciono i letti grandi il mio pigiama è blu e grigio vicino al letto ho un tappeto dormo su un materasso doppio paolo era partito con anna in vacanza andiamo a lavorare dopo le vacanze ho comprato una macchina da caffè siamo partiti da napoli per firenze gli operai finiranno i lavori a novembre ti spedirò il pacco fra poco per posta ho incontrato alcuni amici di passaggio ho trovato questi libri in soffitta chiediamo a lui di accompagnarci perché non sei andato da tua sorella questa sera vado in centro con lui ho spedito una lettera in spagna Luca è andato a farsi visitare ho bisogno di una risposta da te questa mattina sono andato al negozio ho parcheggiato e ho preso l'ascensore ho sbloccato un carrello con una moneta sono salito con la scala mobile ho girato tra i reparti per guardare ho scelto una giacca e due camice sono andato nel camerino per provarle la giacca era stretta e l'ho messa a posto sono andato alla cassa per pagare la commessa ha segnato il mio acquisto mi sono accorto di non avere contanti allora ho pagato con la carta di credito ho messo la busta con le camice in auto una volta a casa ho lavato le camice qual è la frutta che più ti piace con il gelato? non ci sono andati l'altra volta non pioveva vado spesso in moto da Pisa fino a Roma va ma non ci mettere troppo tempo c'è gente che inventa scuse ogni giorno da allora ho iniziato a mangiare più sano d'ora in poi non ti racconterò più nulla sul lago c'è un cigno Maria lo osserva l'odore di quelle spezie mi piace molto Maria ha raccontato tutto alle amiche ci hanno detto che è stato un incubo la tua è una bell'idea ma solo in teoria avete concluso un buon affare stamattina ci ho messo tanto tempo prima di capire i nostri amici ci aiutano davvero tanto qualcun altro ha visto quello che è successo? questa amica ti è sempre stata molto vicina non ho nient'altro da aggiungere ancora ho chiesto di restare con voi mi prometti di essere bravo? l'ho convinto a fare la spesa è stanco del troppo nuotare è bello andare in vacanza cerco di capire il problema ho visto volare l'aereo vedo di aiutare come posso sento abbagliare il tuo cane sento di dover andare via ci hanno guardati partire le regole vietano di uscire sono andato a nuotare oggi devo iniziare a cucinare essendo finlandese essendo finlandese è abituato al freddo il parcheggio è per le persone residenti Luigi pensava ad altro camminando questi sono palazzi risalenti al 600 tornando dalle ferie ha portato i regali Luca ha guidato per dieci ore cantando il professore nuovo è molto competente studio sempre ascoltando la musica voglio comprare una moto potente sta piovendo non possiamo uscire bevendo il tè ho finito di lavorare Claudio usa molte creme idratanti Anna è uscita portando via il cibo guardando l'orologio ho letto l'ora l'ho mangiato anche stavolta non ci ho nemmeno pensato non sono uscito neanche oggi non voglio neppure una mela avete aspettato anche troppo lunedì ci siamo perfino divertiti non ci sono andato pure voi fate la spesa la sera non ci sono nemmeno andato ho guidato perfino in campagna forse non c'è neanche Luca la mia auto ha anche la radio neppure in spiaggia c'è gente pure Claudio è uscita dal bar il mio amico è anche un atleta uno primo due secondo tre terzo quattro quarto cinque quinto 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 Accordo, disaccordo, lecito, illecito. Conosciuto, sconosciuto. Continuo, discontinuo. Fortunato, sfortunato. Logico, illogico. Onesto, disonesto. Educare, diseducare. Provveduto, sprovveduto. Amore, disamore. Attento, disattento. Consigliare, sconsigliare. Giungere, disgiungere. Cortese, scortese. Esprimere. Espresso. Erigere. Eretto. Fondere, fuso. Friggere. Fritto. Giungere. Giunto. Imprimere. Impresso. Includere. Incluso. Intendere. Inteso. Invadere. Invaso. Leggere. Letto. Mettere. Messo. Muovere. Musso. Nascere. Nato. Nascondere. Nascosto. Domani iniziamo un'ora prima. È ora di andare a mangiare. Ho lavorato in città fino ad ora. Per ora non posso uscire con te. D'ora in poi ci alzeremo presto. Hai ricevuto il libro un'ora fa. Era ora che finisse di piovere. Siamo arrivati da un'ora circa. Non vedo l'ora di andare in ferie. Finora ho viaggiato spesso. Se piove allora non usciamo. Stasera mangio un'ora dopo. Hanno pulito solo in un'ora. D'ora in poi tutto cambierà. La bottiglia è sul tavolo. Sei andato fino al teatro. Le mele sono sugli alberi. Quello è il cibo del mio cane. Mettete il sale sulle uova. Luca si guarda allo specchio. Non andiamo dallo zio oggi. Siamo all'uscita di scuola. L'anello mi è caduto nell'erba. Ci vado prima degli altri. La cena va sul mio conto. Dopo andiamo al cinema. Il coltello è nel cassetto. La luce della cucina non va. Lui lavora senza entusiasmo. Non può vivere senza soldi. Ha finito senza problemi. Non agire senza sicurezze. Te lo invio senza ritardi. Luca è senza educazione. Non guido senza cintura. Molti sono senza casa. È rimasto senza parole. La pasta è senza sale. Devi stare senza pensieri. Il caffè è senza zucchero. Non esco senza giacca. Dici cose senza senso. È bello vederti dopo tanto tempo. Non dimenticarti di chiudere l'auto. Ti chiedo di pensarci su con calma. Ti piacerebbe andare in spiaggia. E' importante inviare questo pacco. Dubito di essere puntuale stasera. Luca vuole cambiare la macchina. Ho deciso di anticipare le mie ferie. domani è urgente finire il lavoro. Claudia non ha voglia di cambiare. Non so ancora cucinare bene. Penso di dover spostare l'auto. Ho visto uscire Paolo da scuola. Luca dice di aver perso le chiavi. Un televisore a colori. Un viso allegro. Un'amica francese. Uno studente belga. Un'amica francese. Una città greca. Un uomo ottimista. Un caffè lungo. Una cantante brava. Un'insegnante tedesca. Un attore comico. Un collega giornalista. Una cartolina colorata. Un pianista inglese. Una bambina torinesee. Una radio nuova. Un'università straniera. Un armadio di legno. Una moto giapponese. Una donna gentile. Un edificio vecchio. Un bicchiere vuoto. Luca ha invitato suo zio. Più tardi arriva mio padre. Racconto la mia avventura. Ti presento mia sorella. Ti presento le mie sorelle. Invitiamo le nostre amiche. Prendete i vostri quaderni. Descrivo i miei genitori. Presentano la loro madre. Dopo chiamo mio cugino. Questa è la mia famiglia. Più tardi vado a casa mia. C'è anche il mio amico. A tuo zio piace guidare. Ho già mangiato abbastanza. Hai appena finito di cenare. Ci vediamo alle undici circa. No. Voglio lavorare un po' meno. Stanotte ho dormito molto. Casa tua è piuttosto lontana. Non hanno fatto più niente Oggi avete poco da fare Non sai quanto ha piovuto Dobbiamo solo riposarci Al cinema c'è tanto pubblico Cammini troppo veloce Ho quasi fatto un disastro Ho visto almeno due gatti Non si vede il mare da quassù Nell'edicola si vendono i giornali Domani ci si sveglia presto Stasera si può andare al cinema Loro si prendono la mia auto Al ristorante si mangia bene Si dice che quest'anno nevicherà Spesso si viaggia di notte Dalle piramidi si vede il deserto Ieri sera si è parlato di tutti voi Se si sta male è meglio dormire Si prevede una gran pioggia In estate si fanno le vacanze al mare Non si finirà per vendere la casa Maria leggeva un libro Io andavo al cinema Loro dormivano male Noi finivamo la visita Lui parlava di ecologia Cosa faceva Maria? Dove andavi? Dove andavate? Finivate il lavoro per oggi Io camminavo Noi pensavamo Io mettevo Loro finivano Loro finivano Voi credevate Marco abitava a Napoli Tu non parlavi con Luca Tu avevi un'auto blu Tu avevi un'auto blu Come dormivano? Quando finivamo? Di cosa parlava? Tu mettevi via i soldi Nel libro ci sono alcuni sbagli Dopo mi bevo un altro caffè A scuola tutti vanno d'accordo Oggi non ho visto nessuno Devo risolvere certi problemi Ogni libro deve stare in ordine Avete perso molti documenti Ci siamo visti diversi mesi fa Non ho trovato nessun traffico Fino a stasera Ho troppo da fare Basta poco per pulire la casa Ho sentito cosa dicono gli altri Abbiamo poche piante in casa I dipinti qui sono di varie epoche Se avessi tempo ti verrei a trovare Magari avrò sete Mi porterò all'acqua Ne avevi già due Ma ora ne hai tre Penso che tu abbia avuto fortuna Luca aveva sempre fame la sera Abbiamo avuto molto tempo Piove e voi non avete l'ombrello Claudia avrebbe avuto torto Avete per caso dei libri di cucina? Mi dispiace non averti avvisato Stavamo avendo alcune difficoltà L'auto sembra avere dei danni Loro avevano finito di lavorare Oggi avrei molto lavoro da fare Gliel'ho detto ieri sera dopo cena Non riesco a farglielo ammettere Il progetto glielo porto domattina Se ti piacciono te ne compro due Il ladro non è riuscito a rubarmelo Diggielo appena vi vedete domani Se hai l'acqua gliene dai un po' Se me lo chiedesse glielo direi subito Hai guanti stretti non può toglierseli Dicendotelo mi sento già meglio I libri me li darai domattina a scuola Tranquillo non devi preoccupartene Di biscotti non ce ne sono più Fateci trovare la macchina pulita A casa tua si mangia bene Le monete sono nella cassa Luca indossa un cappello Hai un capello sulla giacca Ho tolto la neve con la pala Domani giochiamo a palla Fa caldo e ho molta sete Ci vediamo alle sette in punto La nonna ha fatto il tonno Parla con un tono più basso Hai già fatto la spesa oggi? Devi portare fuori il cane Dopo andiamo dal nonno Sono già al nonno episodio Ho appena steso i panni Appena lo incontri Diggli di telefonarmi a casa Luca insiste Finché non ottiene ciò che vuole Quando furono tornati Andarono a dormire? Dopo che furono tornati Andarono a dormire? Quando hai telefonato Lei era già andata via? Prima che tu lo venga a sapere da lui Te lo dico Non guarirai finché non faremo un viaggio Quando decidete di uscire Fatemelo sapere Non passerà l'esame Finché non si impegnerà Non si impegnerà Dopo che fu uscita di casa Vide un'auto rossa Si addormentò Prima che il film terminasse Appena ebbe finito di cenare Beve un caffè Quando arriverà l'estate Andrò in vacanza Ho studiato Finché mi sono addormentato Dopo che ebbi fatto la spesa Iniziai a cucinare Abbiamo la lezione Tra cinque ore Luca finirà il lavoro In dieci minuti Anna abita In un appartamento Vado in vacanza Tra una settimana Voi bevete un caffè In quel bar Mangio gli spaghetti In un piatto In classe Si siede sempre in fondo Andate in pensione Tra sette anni Compero il pane In un supermercato Il nuovo cellulare Esce tra due mesi Le vacanze Le facciamo in estate Ho parcheggiato Tra due macchine Spesso mi piace stare Tra la gente Possiamo vederci Tra non molto La polterona La polterona è comoda Le polterone sono comode Il letto è bello e grande I letti sono belli e grandi La camera è piccola Le camere sono piccole Il libro è lungo Ma interessante I libri sono lunghi Ma interessanti Tutto il giorno Tutti i giorni Che bella casa Che belle case Tutta la notte Tutte le notti Il cavallo nero I cavalli neri La cravatta nera Le cravatte nere La cravatta verde Le cravatte verdi L'altra volta Le altre volte Questo signore Questi signori Questa signorina Queste signorine Un reparto Dei reparti Un sapone Dei saponi Un euro Degli euro Il cieco I ciechi Lo specchio Gli specchi La vacanza Le vacanze Il dottore Il dottore I dottori Ti ho visto Da qualche parte L'auto di tua nonna È verde C'è una lettera Per te Da Parigi Claudia Ha finito di studiare Il vaso È caduto Dal balcone Luca Luca è stato al cinema Da solo Oggi partite Col volo Del luna Stiamo andando Tutti da Paolo Questo vestito È di due anni fa Luca Luca vuole qualcosa Da bere Hai una casa Piena di quadri Siamo usciti Da quel negozio Domani Non ho nulla Da fare La porta È di nuovo Chiusa Tu ti chiami Stefano Quanti anni Ha tuo figlio? Loro sono i miei amici Mi piacciono gli spaghetti Mio figlio va a scuola Lui regala i suoi giochi Voi venite a casa stasera Noi abbiamo 15 anni Noi facciamo i compiti per domani Loro vogliono studiare qui Io mangio una pizza Non voglio andare al cinema Qui a destra Qui a destra c'è il bagno Come stanno i tuoi figli? Di che colore è l'auto? Possiamo giocare a calcio? Certo che potete andarci Vanno alla scuola media? Perché non fate i compiti? Preferisco giocare a carte Lei si chiama Claudia Io sono Tu sei Lui lei è Noi siamo Voi siete Loro sono Io ero Tu eri Lui lei era Noi eravamo Voi eravate Loro erano Io sono Io sono Stato Tu sei Stato Lui lei è Stato Noi siamo Stati Voi siete Stati Loro sono Stati Io ho Tu hai Lui lei ha Noi abbiamo Voi avete Loro hanno Io avevo Tu avevi Lui lei Lui lei aveva Lui lei aveva Noi avevamo Voi avevate Loro avevano Io ho avuto Tu hai avuto Lui lei ha avuto Noi abbiamo avuto Voi avete avuto. Tu facevi. Lui-lei faceva. Noi facevamo. Voi facevate. Loro facevano. Io ho fatto. Tu hai fatto. Lui-lei ha fatto. Noi abbiamo fatto. Voi avete fatto. Loro hanno fatto. Io vado. Tu vai. Lui-lei va. Noi andiamo. Voi andate. Loro vanno. Io andavo. Tu andavi. Lui-lei andava. Noi andavamo. Voi andavate. Loro andavano. Io sono andato. Tu sei andato. Lui-lei è andato. Noi siamo andati. Voi siete andati. Loro sono andati. Potere. Io posso. Tu puoi. Lui-lei può. Lui-lei può. Noi possiamo. Voi potete. Loro possono. Dovere. Io devo. Tu devi. Lui-lei deve. Noi dobbiamo. Voi dovete. Volere. Loro devono. Volere. Io voglio. Tu vuoi. Lui-lei vuole. Noi vogliamo. Tu vuoi. Lui-lei vuole. Lui-lei vuole. Lui-lei vuole. Loro vogliono. Luca è più giovane di Emma. Io sono meno alto delle mie cugine. Tu sei intelligente come lui. Lei è più alta di sua nonna. Questa casa è meno bella dell'altra. Lisa è intelligente come Anna. La mia auto è più veloce della tua. Siamo meno competenti di loro. Il cane di Luca è calmo come il mio. Io non sono più intelligente di lei. Loro sono meno ricchi dei tuoi amici. Claudia è stanca come suo cugino. I miei amici sono più bassi di me. Lei è meno giovane di sua sorella. Tu sei vecchio proprio come noi. Ci sono più studenti che insegnanti. Leggo meno romanzi che riviste. Il lavoro è tanto noioso quanto faticoso. Luca non è più sveglio di Davide. Giulia ha meno fratelli che sorelle. Lui ha tanta energia quanto sua figlia. Claudia è più bella che geniale. Tu non guardi meno film che serie. Ci sono tanti coltelli, quante forchette. Luca non è andato al lavoro oggi. Neanche Lisa. Dobbiamo spostare la macchina. Anche voi. Vado al cinema ogni sabato. Anche io ci vado. I miei amici non escono stasera. Neanche i miei. Io telefono spesso a mia cugina. Anche noi. Tu giochi molto spesso al campo. Anche tu. Lei non va mai a letto alle dieci. Neanche loro. Loro non mangiano mai il gelato. Neanche voi. Tu mi mandi molti messaggi. Anche tu lo fai. Voi andate in vacanza d'estate. Anche loro. Domani dovete alzarvi presto. Anche lunedì. Non ci piacciono i piatti freddi. neanche a noi. Claudia non capisce la lezione. Neanche tu. Voi andate in vacanza domani. Anche loro. Lei gioca calcio da molti anni. Anche Luca. I miei cugini non aspettano mai. neanche i suoi. Neanche i suoi. Luca non dice mai dove va. Neanche tu lo dici. Sulla sedia c'è la mia giacca. Il gatto che dorme è nostro. Quella è la sua macchina. Lo zaino sul tavolo è vostro. Metto in valigia i miei vestiti. Hai portato le tue sciarpe? Questi bicchieri sono suoi. Le bibite in frigo sono mie. Ho lasciato il mio cappotto. Vediamo il tuo orologio. Stasera siamo a casa loro. Vostro figlio non è a scuola. Vuoi leggere il mio giornale? Il tuo cane è amichevole. Lo zaino in cucina è suo. Questa idea è stata nostra. La mia idea è stata geniale. è arrivato il mio telefono. L'auto in giardino è la loro. Dove vai con la tua moto? Chi? Chi non cucina, poi lava i piatti. Che? Mi piace il vestito che hai preso. Luca, il quale è il mio amico, è alto. Che? Ecco gli amici che mi aiutano. Chi? Chi vuole partecipare e si iscrive. La quale? L'uva, la quale è buona, fa bene. La quale? Ecco Lisa, la quale è molto bella. La quale L'auto, la quale è qui fuori, è rotta. Qui Luca, a cui ho detto tutto, è qui. Chi Non mi piace chi è antipatico. Chi So chi ha fatto questo dipinto. Che Il cane che ti inseguiva è mio. Cui Lei è Lisa, di cui so molto poco. Il quale Vado dal nonno, il quale è a casa. Chi Parliamo con chi ci ascolta. Che Oggi c'è la festa che mi piace. Chi Non ho visto chi è andato via. La quale Lo dico a lei, la quale non sa nulla. Questa è la macchina di Andrea. Claudia sta a Roma da due anni. Sto per andare a fare la spesa. Le chiavi sono sul tavolo in cucina. Sto leggendo una rivista di moda. Quasi tutti i colleghi sono malati. Questi fiori sono molto belli. Non ho voglia di stare seduto qui. Copiare all'esame è vietato. Sto partendo per andare in gita. Il viaggio sta andando benissimo. La nonna è felice del suo regalo. Per adesso sono ancora a casa. I cassetti devono stare chiusi. Siamo sicuri che ci riusciremo. State al caldo e non al freddo. Dobbiamo stare attenti alle auto. Il cane è ancora in macchina. Le mie cose sono nell'armadio. In spiaggia si sta molto bene. Sono già tornato dal mio viaggio. Dove andate domani sera? Cosa hai fatto stamattina? Quante persone hai invitato? Con chi stavi parlando prima? Qual è il tuo numero di telefono? Mi dici che ore sono adesso? Cosa ti è successo al cinema? Quando aprono i negozi? Come si chiama il tuo gatto? Quanta gente va allo stadio? Di chi sono questi guanti? Perché sei stato licenziato? Perché mi dici queste cose? Cosa facciamo questo sabato? Chi è l'uomo che ti saluta? A che ora devi andare via? Quanto tempo stai in città? Quando tornate dalla Spagna? Chi è il tuo migliore amico? Dove siete stati questa estate? Di che colore è la tua auto? Bisogna chiamare la nonna. Ci vogliono molti ingredienti. Bisogna invitare Paolo e Luca. Ci vogliono un libro e una penna. Bisogna comprare la pasta. Bisogna evitare la tua collega. Ci vogliono dei giornali nuovi. Bisogna telefonare al dottore. Ci vuole tempo per cucinare. Ci vogliono dei vestiti nuovi. Per la festa ci vogliono gli amici. Bisogna fare il pieno all'auto. Per studiare ci vuole impegno. Sull'albero ci vuole una stella. Ci vuole una penna per scrivere. Ci vogliono dieci minuti per andarci. Per andarci bisogna guidare. Per il dolce ci vuole lo zucchero. Per sciare ci vuole la neve. Bisogna uscire di casa spesso. Ci vogliono tanti giorni di vacanza. Ecco gli atleti che si allenano. Oggi viene solo chi mangia. L'auto che c'è qui è gialla. Il libro che mi hai dato è bello. Il bus che ho preso era blu. Non mi piace chi dice le bugie. Chi ha visto il film stia zitto. Mi passi il piatto che è laggiù? La pizza che mangio è buona. Non so chi ha telefonato ieri. Chi lavora tanto si impegna. La torta che hai fatto è buona. Il film che ho visto era noioso. Paolo ha detto che ti saluta. Non so che cosa stai facendo. Mi chiedo chi sia quell'uomo. So chi ha mangiato i biscotti. Il vestito che indossi è viola. Parlo con chi mi ascolta. Dici quello che tutti pensano. Leggere. La lettura. Pagare. Il pagamento. Nascere. La nascita. Bere. La bevuta. Cadere. La caduta. Perdere. La perdita. Scendere. La discesa. Offrire. L'offerta. Spingere. La spinta. Dividere. La divisione. Ridere. La risata. Andare. L'andata. L'andata. Fare. Il fatto. Vincere. La vittoria. Uscire. L'uscita. L'uscita. Nevicare. La nevicata. Essere. L'essenza. Volare. Volare. Il volo. Leggere. La lettura. Dormire. La dormita. Mio cugino sa parlare lo spagnolo. Io non conosco tanta gente qui. Tu sai dov'è la stazione degli autobus? Noi conosciamo un buon ristorante. Loro non sanno il mio indirizzo. Tu conosci il mio compagno di stanza? Chi conosce la città di Firenze? Non conosco nessuno in questa città. So che lui si è diplomato. Noi non conosciamo il tuo collega. Io non so parlare il giapponese. Io non conosco il giapponese. Voi non sapete quanto abbiamo pagato. Questa settimana ho conosciuto molti studenti. Tu sai come si cucina il pollo? Mia zia conosce una ricetta buonissima. Tu non conosci nessuno di Napoli? I miei colleghi non sanno quanto guadagno. Non so cosa ci sia in quella busta. Abbiamo visto un uomo che non conosciamo. Non ho visto nessuno al bar ieri. Oggi non ho mangiato niente. Non abbiamo né vino né acqua. Nessuno sa ballare come me. Non mi compri mai nulla. Allora non ci vieni neanche tu? Non si sente nessuna notizia. Non hai fatto niente oggi. Non mi piace questo quadro. Sono noiosi. Non escono mai. Non ho mai letto quel libro. Non l'ho fatto neanche adesso. Non gli ho detto ancora niente. Non hai letto quel libro. Non hai letto quel libro. Non mi piace nessuno dei due. Non ci hanno nemmeno risposto. Non ci avete preparato nulla. Non gli ho parlato di niente. Non c'è più nulla da fare. Non ho mai detto questo. Non c'è più nulla da fare. Non ho mai detto questo. Non ho mangiato le lasagne. Non mi ero ancora svegliato. Oggi non ho neanche cenato. Quanto costa questa camicia? Quando sono a casa ti chiamo. Non so quando andiamo a cena. Per quanto tempo sei stato via? Quando eri un bambino piangevi molto. Quando vuoi beviamo un caffè. Quando è il tuo compleanno? Quando leggo mi siedo sul divano. Quanto tempo ci vuole per uscire? Da quando sei tornato sei felice? Per quanto starai in vacanza? A quanto pare ci sarà la pioggia? Ha detto che non sa quando viene? Quando viene? Quanto durano le vacanze? Quando finisco di lavorare e esco. Ho visto quanto c'è da mangiare. Mangio quando il sole tramonta. Quando guido, ascolto la musica. Da quanto tempo sei uscito? Il mio cane è buono quanto il tuo. Devo andare al bagno. Ho il biglietto nella borsa. Noi lo teniamo in tasca. Luca lo cerca sotto il sedile. Forse lo ha perso al bar. Il treno viaggia sui binari. Noi scendiamo dal treno. Il treno va a Palermo. Palermo è in Sicilia. Io viaggio in macchina. Alcuni stanno in piedi. Nessuno sta nei corridoi. Altri siedono nelle stanze. Noi camminiamo sul ponte. Voglio uscire di casa. Sono laureato in medicina. Noi lo sappiamo da poco. Luca ci chiede di aiutarlo. Puoi dirlo a tua mamma. L'auto viaggia sull'asfalto. Noi saliamo sulla bicicletta. Poco fa ho incontrato Roberto. Luca guida l'auto da tre anni. Sarò a Roma fra dieci giorni. Due giorni fa è venuto Paolo. Da quanto studi l'italiano? Fra un mese parto per la Spagna. I bambini dormono da poco. Fra due anni finirò la scuola. Da quanto tempo conosci Marco? L'ho comprata nuova un anno fa. L'estate inizia fra un mese. Non vedo Sara da due giorni. Ci sono già stato sei mesi fa. Un'ora fa stavo lavorando. Un'ora fa stavo lavorando. Uomo. Donna. Cugino. Cugina. Papà. Mamma. Studente. studentessa lettore lettrice autore autrice allenatore allenatrice sciatore sciatrice amico amica zio zia marito moglie maschio femmina fratello sorella cassiere cassiera pittore pittrice pittrice nipote nipote cuoco cuoca figlio figlio figlia pilota 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 dottore dottoressa 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 su m fratella me la